Allora Gianni, ho preparato qui un track sheet di un disco importantissimo che avete fatto e penso di partire da questo brano qua che credo che sia veramente il più importante, forma e sostanza. Eh beh, innanzitutto emozione, emozione doppia anche per ritrovarmi comunque a fianco a uno dei migliori forici italiani in assoluto. Eh no, vabbè, bisogna dare a Cesare quel che è di Cesare. E che dire, niente, è stato, questo è l'ultimo album in pratica dei CSI, del Consorzio Suonatori Indipendenti e credo anche che forse attraverso questa canzone nata come sempre in gem, nella casualità quindi più assoluta e nella notte inoltrata fra l'altro, sia stato anche un po' una sorta di grimaldello per riuscire a essere anche, come dire, scoperti dalle radio o da altri media che insomma non consideravano l'altra musica, io la chiamo così, o la musica altra. E' un pezzo a cui tutti noi siamo affezionati, anche se in qualche modo è stato il pezzo che ha contribuito a rendere popolari i CSI e al tempo stesso nel giro di un anno, un anno e mezzo a condannarli all'oblio, cioè nel senso dopo questo album siamo passati dai piccoli teatri, da una situazione, una dimensione abbastanza artigianale e familiare se vogliamo, alle dimensioni grosse dei grandi palazzetti raddoppiati o triplicati, pieni in sold out, evidentemente non eravamo in grado di reggere chi più chi meno quel tipo di pressione, per cui è stato l'inizio della fine. E' stato l'inizio della fine, però è stato, come dire, abbiamo chiuso in bellezza. issimo!